...di emozioni in piazza e dietro le puntie dello spettacolo, un backstage che come ogni anno è stato preso letteralmente d'assalto, da fans a caccia di foto e autografi, soprattutto di Moreno ed Emma, la star della serata. Stiamo lavorando tanto, continuiamo a lavorare tanto anche se non si vede, per tanti progetti futuri, stiamo lavorando a un tour che partirà a novembre, che per me è molto importante, e nel frattempo però mi godo la Fuglia, che è la mia terra, il mio salento, e sono qui. E' sempre un gran piacere passare per Radio Norba.